Ancora un assalto con spaccata ai danni di un ufficio postale. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 2 della scorsa notte nel mirino della banda composta da almeno 4 persone e finito il postamat dell'ufficio postale di Galugnano, frazione di San Donato di Lecce. I ladri hanno buttato giù la parete utilizzando un escavatore risultato rubato a sternatia e che è stato poi abbandonato sul posto. I danni alla struttura sono ingenti. La montare del bottino è in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Lecce assieme ai colleghi della sezione di San Cesario che hanno svolto i rilievi e avviato le indagini. Il copione è quello già visto in altre occasioni. Il braccio di una pala meccanica che dopo aver sfondato il muro di protezione afferra il bancomat e lo trascina via. Proprio gli sportelli automatici con il loro prezioso bottino sono diventati ormai l'obiettivo di una o più bande criminali specializzate in questo tipo di assalti. Appena due giorni fa presumibilmente la stessa banda aveva compiuto un colpo dalle stesse modalità ai danni della Unicredit di Marittima, frazione di Diso.